Eccoci qua, buongiorno a tutti. Ultimamente sui social ho letto, diciamo, ho visto tanti video parlare sul fatto che dice che è giusto far dormire il cane sul letto, che dice che è sbagliato far dormire il cane sul letto, io l'unica osservazione che posso fare è che secondo me è assolutamente sbagliato far dormire un cane sul letto se abbiamo un mini toy o un soggetto in crescita a fine sei mesi, perché potrebbe scendere inavvertitamente dal letto e farsi male. Ricordatevi che quando si parla di toy, di mini toy si parla di cani veramente molto piccolini con delle articolazioni molto piccole, quindi molto soggetti ad andare incontro a fratture e poi fratture per andare a risaldarsi è un qualcosa di veramente di molto lungo, molto difficile, quindi insomma sono infortuni che assolutamente dobbiamo scongiurare con tutti i metodi possibili quindi io vi sconsiglio di far dormire il vostro barboncino sul letto se avete un cane veramente molto molto piccolino, quindi entro i due chili o un soggetto in crescita fino ai sei mesi, per il resto insomma non vedo, non trovo utile fare particolari appunti perché il discorso c'era archico, per me sono tutte cose assolutamente opinabili, quindi che non hanno rilevanza, però per quanto riguarda la salute del cane occhio a far dormire il barboncino sul letto che non voglia scendere si faccia male. Io vi ringrazio e vi auguro buona giornata!